Tombini saturi di liquami ed escrementi a cielo aperto in almeno 5 palazzine popolari in via caduti per servizio nel quartiere di Fontanelle a Pescara. Ci mancava anche questa verrebbe da dire, ma purtroppo è la triste realtà. Se dalla televisione si potessero sentire gli odori vi rendereste conto ancora di più della situazione incredibile in cui sono costretti a vivere i residenti di via caduti per servizio qui alla quartiere di Fontanelle a Pescara. Ma le immagini sono anche fin troppo eloquenti. Noi non veniamo a dettoli quel delle fognature perché non ci pagano. Eccolo qua. E noi dobbiamo stare con la puzza. E va bene, va bene. Ok, grazie. Grazie a voi. Gentilissimo. Speriamo che ora si muove qualcosa. Ma speriamo. Per il Comune ascolto perché ora ci stanno altre volte le votazioni per il Comune. Eh sì, sì, ci stanno. Sì, sì, ma difficilmente stavolta ci vado. Da più di 20 giorni le fogne dei numeri civici 7, 9, 11, 15 e 41 completamente intasate e a nulla sono servite le decine di segnalazioni dei residenti. Dal Comune alcuna risposta e quelle poche risposte date sono anche peggio. Non abbiamo i soldi per pagare il servizio di Spurgo. Così ci hanno riferito gli abitanti, si sono sentiti dire. Questa mattina abbiamo provato a fare un giro accompagnati da Nello Raspa, presidente dell'Associazione Insieme per Fontanelle e dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, ogni presente nelle situazioni di assoluta emergenza. Il Comune non fa altro che dire che purtroppo non possono intervenire perché mancano i fondi. Dicono che se tutti quanti pagassimo l'affitto magari loro riuscirebbero a fare i lavori. Però c'è anche chi l'affitto lo paga e vuole vivere in un posto discreto, non in mezzo alla fogna. Anche perché basterebbe un semplice servizio di Spurgo? Sì, ma sbagliano perché arrivano, qualcuno viene ogni tanto, però pulisce il pozzetto dove noi abbiamo segnalato. Anziché pulire un unico pozzetto, puliamo tutta la linea e vedi che poi non succede di continuo. Mi riallaccio a quello che ha detto Nello, non pagano l'affitto, ebbene facessero gli sfratti degli abusivi perché se non pagano gli affitto e stanno da decenni all'interno dell'abitazione senza pagare l'affitto e nessuno li sbatte fuori casa, è normale che non pagano l'affitto e il Comune non gli rientri i soldi. Iniziassero a fare sfratti di abusivi anche per le case comunali. Stiamo parlando di case comunali. Grazie.